Viva noi due! Ragazzi, facciamola breve, dai, facciamola breve. Ti faccio subito premiare. Allora, chiamo sul palco per consegnarvi il bagasso d'oro, Dame Helen Mirren! Che stupenda sta cosa! It's a big surprise for me! Grazie, ma che bella l'ora! Pensa lei la potrà raccontare sta cosa premiata? Un matto! E poi parla più via a mio marito! Incredibile! Come stai? Ti parli un po' italiano, vero? Un po', ma non molto, non come te! L'unica cosa che sto facendo! Più con l'inglese! Più con l'inglese! Ma mia mamma è alfa americana! Ma mia mamma è la mia mamma! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani... In Helen... No! Tu sei la star! Tu sei la star! Che emozione ragazzi! Dov'hai? Ci l'hai portato! Stasera che spettacolo! Grazie, Helen! Thank you very much! Grazie! Vorrei fare come ha fatto Pezziotti, alzare il premio così, ma queste ragazze! Se alzo così mi rimane... ci provo! Grazie... Grazie! 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 Grazie!